La Union Aerospace Corporation è la più grande entità corporativa esistente. Originariamente impegnata solo in armamenti e in contratti di difesa, ora investe risorse anche in ricerche biologiche, esplorazione spaziale e altre attività scientifiche. Grazie a fondi limitati e alla possibilità di effettuare ricerche al di fuori di regole morali e legali, la UAC controlla le tecnologie più evolute mai concepite. 263, passiamo a 38000. Ricevuto Darkstar, scendete a 2000 e contattate il controllo su 26972. Ricevuto Torre. Sono sul radar signore, atterreranno fra qualche istante. Eccellente, fate venire il consigliere squad direttamente da me. Sì signore. Torre, qui Darkstar, siamo in avvicinamento. Vi abbiamo acquisito Darkstar, è tutto pronto per l'attranco. Non posso credere che si sia giunti a questo, non volevo venire qui. Non le ha lasciato scelta, vero? Ma questa è l'ultima volta. Sono stanco di fare il controllo danni ogni volta che combina un guaio. Esatto, lei è il controllo. Se fallirà, io sarò la distruzione. E sarà necessario. Eldrugger dovrà iniziare a fare le cose a modo nostro. Come meglio credi consigliere. Benvenuto su Marte. Tutti i nuovi arrivati devono registrarsi all'Arception. Benvenuti a Mars City. La principale struttura di ricerca è da Ape Space. Per acevolare la vostra registrazione, dirigetevi all'Arception. Allora, anche tu. Benvenuto su Marte, Marina. Ho bisogno che ti fermi su uno di quei quadrati rossi sul pavimento per una bioscansione. Ti vorrà solo un secondo. Ok. Aspetta che lo attivo. Deve rimanere fermi. Se ti muovi, farei perdere tempo a entrare. Ottimo, la bioscansione è a posto. Sei autorizzato a entrare. La UAC vi dà il benvenuto a Mars City. Questo impianto serve da nucleo centrale per tutte le ricerche scientifiche. Attenzione, il direttore Banks ha rapporto... Benvenuto su Marte, prima volta? Puoi lasciare la borsa lì e la farò mandare al tuo alloggiamento. Ok, ci sono alcune cose da sistemare. Questo è il tuo palmare, o PDA, che avrai bisogno per accedere a tutte le zone protette. Se ricevi una nuova autorizzazione, questa verrà scaricata automaticamente. È importante, quindi non perderlo. Vedo che il sergente Kelly ha richiesto la tua presenza immediata. Vai direttamente al comando dei marini. È da quella parte. Segui i cartelli. Mars City è una struttura non fumatori. Fumate solamente nelle zone riservate. Grazie per la collaborazione. Sono qui perché pare che ci siano dei problemi piuttosto seri. Oh, davvero? Devo ricordarle il rivoluzionario lavoro che stiamo portando avanti. No, ma sono stato autorizzato dal Consiglio a controllare tutto. Il Consiglio l'ha autorizzata? Il Consiglio non sa niente di scienza. Vuole solo qualcosa che faccia guadagnare più soldi. Un prodotto. Non si preoccupi, avranno il loro prodotto. Dopo quanti incidenti? Mi dica, Professor Betruger, perché tanti lavoratori si lamentano e richiedono il trasferimento da Marte? Semplicemente non riescono a reggere questa vita. Sono esausti e stressati. Se avessi uno staff migliore e un budget più alto, si sarebbero potuti evitare questi piccoli incidenti. Ho paura che non otterrà altro fino a quando non farò un rapporto al Consiglio. Avrò bisogno di accedere a tutto, Professor Betruger, incluso al Delta. Non avrò difficoltà a farlo, vero? Solo se si perde, Swan. Ma non mi stia fra i piedi. Resto qui, ne succederanno di tutti i colori. Aspetti e vedrà. Andiamo. Senti, amico, non hai ancora l'autorizzazione per questa zona. Circolare. Non credo di averti mai visto. Devi essere il nuovo rimpiazzo che abbiamo richiesto. Sì, li ho visti arrivare anch'io, i colletti bianchi. Strano. Alla UAC devono essere più occupati per qualcosa. Attenzione, il Professor Braddick ha rapporto nell'Ufficio Gestione Ambientale 4A. Devi fare rapporto al più presto al Sergente Kelly, lo trovi al comando. Qui gestione scientifica a Delta. Vorremmo richiedere un'altra squadra di sicurezza al Delta. Sì, signore. Grazie. Te la sei presa comoda, eh, Marine? Bene. Questa è la situazione. È scomparso un altro membro della squadra scientifica. Siccome sei il pivello più alto in grado, tocca a te trovarlo. Voglio che controlli il vecchio centro comunicazioni. Pare che sia andato da quella parte. L'unica via è il passaggio di servizio sotto Mars City. Ho programmato questa sentinella per guidarti fino all'ascensore. Seguila meglio di quanto hai fatto finora con gli ordini. Prendi dell'equipaggiamento alla sicurezza in fondo al pozzo dell'ascensore. Ah beh, quando lo trovi, riportalo indietro. Non fargli del male. E ora vai. Attenzione a tutto il personale UAC. Volete guadagnare di più? Offritevi volontari ai laboratori Delta. E volgetevi al vostro responsabile per maggiori informazioni. La UAC si preoccupa della qualità della vita dei propri impiegati. Usufruisce dei nostri ottimi servizi medici. Al prossimo episodio Grazie a tutti.